Retroscena Osemen, ha rifiutato speciale per lo scudetto. Victor Osemen continua a indossarla perché ormai non sa più vedersi senza. In campo quando segna la toglie subito. Quasi un'abitudine che sta portando fortuna, anche se il bomber del Napoli deve il suo exploit a se stesso. Eppure la maschera protettiva è parte di lui nonostante potrebbe ormai anche toglierla. La indossa dal ritorno in campo dopo l'infortunio con l'Inter del 21 novembre 2021 dopo uno scontro aereo con Skriniar. Il chirurgo Crow però ha svelato che in quell'occasione Osemen ha anche rischiato di perdere la vista. La maschera è di carbonio, e leggera, fruibile, creata su misura, non provoca fastidi neppure alla vista e per questo Osemen ormai non la toglie più. Ma c'è un retroscena. Il retroscena sulla nuova maschera per Osemen lo ha svelato proprio il dottor Roberto Ruggero. Chirurgo tecnologico che ha ideato la protezione. Intervenuto a radio CRC, queste sono state le sue parole, ne stavamo creando un'altra per lo scudetto con lo scudetto disegnato. Ma non la vuole. Osemen, dunque, respinge l'idea di cambiarla. Vuole continuare a segnare con la protezione che tanto bene gli sta portando da ormai oltre un anno. Lo chiamano in tutti i modi, anche superiore, e la maschera è diventata di tendenza, la vendono all'esterno dello stadio Maradona. I bambini l'hanno indossata per carnevale e in provincia una pasticceria l'ha anche utilizzata per ornare la ormai famosa torta Osemen consegnata direttamente al bomber di spalletti. virgola.